ciao a tutti amici di vanilla oggi vi saluto da venezia prima di andare in grecia a trascorrere l'inverno non potevo non passare anche dalla serenissima forse la città italiana dove mi sento più a casa di tutte nel video di oggi vedremo la storia delle esecuzioni e lo faremo anche con un ospite davvero speciale lo storico autore dell'articolo davide busato lo conoscerete alla fine del video a chi guarda il video e non è ancora iscritto vorrei chiedere di iscriversi a vanilla e sostenere il nostro progetto di divulgazione culturale anche quando si parla di pena capitale se ne vedono sempre delle belle chi è colui che possiede più nomi ma nessuno osa chiamarlo potrebbe essere l'incipit di un classico indovinello invece appartiene alla nostra storia stiamo parlando del maestro di giustizia comunemente detto boia o carnefice i romani lo chiamavano carnifex ovvero colui che rende l'uomo carne boia invece si riferiva allo strumento del laccio o gogna e per estensione venne attribuito alla persona nel 1963 il regista luigi capuano dirige il boia di venezia ma in città storicamente la sua figura è avvolta dal mistero in una repubblica attenta all'immagine e che rendeva spettacolo le condanne a morte eseguite tra le due colonne di san marco e santodaro risultò molto più semplice non far trapelare molto su chi si incaricava di una funzione tanto delicata a volte si preferiva soldare uno straniero nel 1406 risulta uno schiavone ovvero dall'entroterra dell'adriatico orientale nel 1514 un tale girolamo da capodistria nel 1750 il romano francesco ravenna curiosa anche l'usanza di incaricare temporaneamente un condannato a morte facendo ben attenzione che non tentasse la fuga si preoccupava il magistrato del proprio a pubblicare il proclama nelle galere e nelle prigioni tale albanaisetto pur trovandosi in carcere per omicidio fece il boia per quattro anni dopo la sentenza perennemente collegato alle prigioni di palazzo ducale con un cordone legato a un piede che gli permetteva di lavorare senza problemi nel 1728 il carnefice giuseppino da mantova venne ucciso mentre tentava di darsela gambe levate due anni dopo giuseppe da brescia riuscì nella fuga e così anche giovanni agnello da limenella nel 1740 non si può certo dire che fossero stinchi di santo nemmeno quelli scelti tra i veneziani il 17 maggio del 1763 il capitano gran mattio varutti su una spiata di un confidente fa irruzione nella casa del boia di venezia antonio preto e lo arresta si era scoperto che faceva il ricettatore per una banda di ladri borsaioli ovviamente per arrotondare la paga una paga che per i parametri dell'epoca non doveva essere troppo bassa nei registri di spesa degli inquisitori di stato troviamo qualche indicazione nel 1717 per aver appeso francesco benedio al patibolo fu pagato 12 ducati nel 1721 per la decapitazione di carlo alberti nei camerotti delle prigioni guadagnò 5 ducati pensiamo che lo stipendio del maestro di violino antonio vivaldi nel 1705 era di 150 ducati all'anno ovviamente vivaldi non doveva affrontare i problemi del togliere la vita qualcuno se il boia sbagliava la lunghezza della corda o il taglio della testa non di rado rischiava che la folla lo linciasse numerosi furono i cambiamenti avvenuti con l'arrivo dei francesi primo fra tutti il luogo delle esecuzioni per secoli i doji avevano decretato che fossero pubbliche e in vista la scelta era ricaduta sulla piazzetta dove sorgevano le due colonne di san marco e santodaro lo sguardo rivolto alla folla e alla torre dell'orologio per vedere l'ultima ora prima che la lama facesse calare il sipario nel 1806 il prefetto del regno d'italia vieta le pubblicazioni delle sentenze sul palco a san marco il primo a beneficiarne è pietro maggio condannato 15 anni in seguito i francesi trasferiscono le esecuzioni nei pressi del monastero dei frati minori di san francesco della vigna vicino all'arsenale e in una zona considerata allora periferica sembra incredibile ma il primo a lamentarsi fu bortolo agostini nunzio della chiesa di san zaccaria ovvero quella di competenza di san marco lui era retribuito per tumulare i cadaveri dei giustiziati ma spostarsi in giro per venezia non rientrava certo nelle sue competenze con lettera scritta di suo pugno sbraitò tanto che venne accontentato e si diede l'incarico ai becchini del cimitero comunale nel 1839 il governo austriaco decide di costruire in quel luogo il gasometro e si cerca un nuovo posto per le esecuzioni in un primo momento la scelta ricade su di un terreno a quinta valle nella parrocchia di san pietro di castello poi nel campo di santa andrea della zirada dove oggi sorge piazzale roma infine si opta per la spiaggia e paludo di santa maria ad orso duro una zona in fase di bonifica distante da tutto e da tutti e dove le sentenze capitali si potevano eseguire in santa pace almeno così pensavano la prima esecuzione avviene nell'ottobre del 1841 quando si fucila nicolò somagi un disertore il giorno dopo arrivano le lettere di protesta degli abitanti per la sepoltura del cadavere nella loro zona gli abitanti circonvicini al nuovo campo di giustizia in arzere a santa marta esternarono delle lagnanze per la pretesa mala sotterrazione del cadavere di nicolò somagi stato fucilato giovedì il clima non era di sicuro il più favorevole al maestro di giustizia che doveva andarci a vivere la prima residenza che conosciamo è una casa al civico 716 adiacente al carcere femminile delle convertite alla giudecca dove alloggia fino al 1857 nell'agosto di quell'anno si acquistano le case di san zenone zen e ambrogio pellanda a santa marta precisamente ai civici 2051 e 2052 per costruirci gli alloggi del boia del suo assistente antonio ressinger il carnefice si trasferisce assieme alla moglie al suo assistente in quella torri d'estate due cucine al piano terra due stanze anguste al piano superiore non certo una reggia chiede solo di porre delle inferiate alle finestre a garanzia della personale sua sicurezza e che venne adottata anche allorché abitava nel locale delle convertite sebbene fosse quel sito meno remoto e deserto dell'altro che si sta ora riducendo nel novembre dello stesso anno antonio richiede la costruzione di almeno due stufe per proteggersi dal freddo pungente dell'inverno in laguna quattro anni dopo un'ennesima lettera affinché si eseguissero dei lavori al tetto e alle finestre anche alla camera per il suo assistente di questi anni abbiamo anche il racconto di un testimone oculare del lavoro del carnefice e ora dalla zona di piazza san marco ci spostiamo verso le fondamenta santa marta di fronte alla chiesa di san nicolò dei mendicoli dove lo storico davide busato ci racconterà cosa successe quel 6 agosto del 1861 alla fila della repubblica di venezia non terminarono le condanne capitali anzi con le dominazioni straniere soprattutto con gli austriaci continuarono istituzionalizzate per la prima volta il boia diventa una figura che ha uno stipendio regolare una casa un edificio nel quale abitare una propria realtà nella quale muoversi anche se non tutti nel popolo veneziano amavano vivere vicino al boia ecco che viene spostato nell'area di santa marta nella parrocchia di san nicolò dei mendicoli ed è proprio in questo luogo che il cicogna nel 1861 in una giornata abbastanza ventosa vedrà penzolare un cadavere ma andiamo a leggere il diario del cicogna 6 agosto ieri mattina lunedì 5 corrente fu impiccato un militare austriaco reo di omicidio del suo caporale esso ne aveva anteriormente ucciso un altro ma per difetto di chiare prove era stato dimesso dal carcere fu impiccato al palo con l'uso del cricco macchina ruota e asta dentata per sollevar pesi il palo era composto da due grosse tavole larghe poco più di una spanna ed alto un grosso uncino per cui è attaccato il laccio da cui pendeva il cadavere che vidi alle sette pomeridiane mentre alle sei antimeridiane fu eseguita la sentenza avea le mani legate una sopra l'altra e anche le braccia legate per dietro la schiena lo stato del cadavere non era per nulla schifoso né lingue né occhi erano fuori dal centro dicono che sia il modo più acconcio e più sic per tale soggetto il vidi senza volere perché recatomi alla sagra del lunedì di santa marta ne feci un giro vidi quantità di gente ne sapeva il perché erano curiosi che aspettavano il boia venisse a levare dalla forca il cadavere per darci sepoltura del resto dall'altra parte della strada ossia sull'arzere di san nicolò la bassa gente ballava al suono dei violini e clarinetti e mangiava sdraiata sull'erba nulla badando che due tiri di schioppo lontano era piccato che però non poteva vedere perché dietro le case ecco questa è la descrizione che il cicogna ne fa ed è l'ultimo che nella repubblica di venezia oramai erano già passati di svariati anni ma l'anno successivo nel 1862 anche gli austriaci avevano smesso di condannare a morte per un periodo abbastanza breve perché poi con il regno d'italia fu abolita la pena di morte e ripristinata solo con il fascismo e per fortuna nel 46 grazie al referendum fu abrogata anche questa barbara pratica e purtroppo per noi è difficile riuscire a ricostruire la figura di quello che è l'uomo dei nomi dei numerosi nomi che nessuno voleva chiamare però